Siamo in compagnia di Igor Fraccaro, Presidente dell'ISU, in occasione del primo Erasmus Festival. Intanto buongiorno e ci spieghi un attimino come si è sviluppato questa prima edizione dell'Erasmus Festival. Sì, buongiorno a tutti. C'è da dire che l'Erasmus Festival nasce dall'Erasmus Day, che è già il 14esimo anno di organizzazione. Quest'anno abbiamo voluto ampliare la festa anche con le associazioni universitarie, così da dare spazio anche per il recruiting che ci sarà il prossimo anno. Quindi la festa è riservata sia agli Erasmus che sono incoming e sia agli Erasmus che sono outgoing dell'Università di Verona per il prossimo anno. Questa qua è un po' l'idea e quindi abbiamo voluto dividere le due giornate. La prima dove gli Erasmus che sono qui a Verona danno informazione agli Erasmus outgoing, mentre la seconda giornata è per le associazioni che vogliono sostanzialmente dare la loro voce sia agli altri studenti universitari italiani sia a quelli Erasmus che sono qua in visita. Quindi non soltanto una giornata per conoscersi, per socializzare, per fare festa, ma anche appunto una giornata per entrare proprio nel mondo Erasmus e magari per dare delle prospettive anche a ragazzi italiani che vorranno andare in Erasmus nei prossimi anni. Esattamente. L'informazione infatti secondo me è la cosa più importante di queste due giornate proprio perché al di là della festa che avremo questa sera che sarà il momento ludico, il momento divertente di tutto quanto, il momento di aggregazione, ma quello che vogliamo proporre appunto è l'informazione data dagli studenti agli studenti.